Sono lei dal vivo del 5 di aprile, naturalmente saremo sia su Facebook che in altri social, ma soprattutto su YouTube, poi passeremo a Instagram come sempre e quindi ci aggiorneremo sulle varie cose, situazioni. Naturalmente potrete seguire le mie dirette, che sono varie, perché comunque i miei video li conoscete, ormai sapete i vari argomenti che trattiamo e quest'oggi siamo rigorosamente in compagnia del nuovo album di Gianni Morandi. Questa è la canzone che Gianni ha dedicato a Anna, che fa partire appunto del suo nuovo album, che è in top 10, potete trovarli in tutte le piattaforme Spotify e non solo. Poi vi ricordo che Gianni naturalmente è in tournée, quindi avremo occasione di vederlo. e il 20 di luglio sarà a Piazzola all'Anfiteatro di Padova, questo modo preciso e quindi dovete già prendere i biglietti. Questa si intitola Anna della Porta Accanto e fa parte appunto del nuovo CD Evviva. Poi naturalmente amici abbiamo tantissimi argomenti perché siamo già a mercoledì e si avvicina un altro giorno di campionato, dove la formazione rosso-nero dopo la ruba o anche vittoria per 0-4 con i napoletani. e dovrà affrontare un Empoli dopo domani sicuramente pieno di agguerimento e voglia di fare. Quindi bisogna fare molta attenzione a queste partite che possono rivelarci visigliose un po' per tutte le squadre. e quindi amici bisogna essere attenti, come ogni cosa sempre da ricordare, bisogna fare un pochettino di attenzione. e quindi andiamo avanti con i nostri argomenti. e ci proviamo ad andare avanti nel giardino dove faremo diversi progetti prossimamente. Anzi, invito a tutti coloro che se ne sono andati dal giardino a venirci a trovare. E' stato un periodo un po' complicato. Veniamo da adipi piuttosto pesanti e nuovi arrivi che spariamo portino gioia. E detto questo amici, gli argomenti sono stati. Questa sera c'è tante cannelli poco da vedere. Mi ricordo l'appuntamento con Stacy Perfodon Forgadeli dove c'è il nostro campione che ormai ci ha abituato a delle performance non indifferenti. Poi, chi volevo salutare? Beh, un saluto particolare da fare ce l'ho perché abbiamo visto i 30 anni di Laura Paolini, i tre concerti che ha fatto. Volevo salutare i primi Laura in questo nostro programma. Questa è apri tutte le porte dallo scorso Sanremo. Si trova anch'essa in questo CD e quindi... Sempre scritto da giovanotti, pensate un po' ragazzi. Mi canto anche un pezzo. Dire questo è un giorno nuovo. È così, è così. Stai andando forte. Apri tutte le porte. Vai dietro il sole. Stai andando forte. Apri tutte le porte. Che sole. E dopo questa canzone, amici, sarà il tempo di salutarti, ma intanto godiamoci D'Anne. dire questo è un giorno nuovo è così è così stai andando forte apri tutte le porte delle porte entro il sole stai andando forte apri tutte le porte stai andando forte entro il sole e quando il sole non c'è entro di me ogni volta per ore e quando il sole si è andando forte apri tutte le porte entro il sole il sole il sole il sole saluto a tutti dal vostro Samuele Coriolato conduttore ciao a tutti e buone tardi ciao a tutti ciao a tutti Grazie.